12,35 euro di contributo di bonifica nella 2022, 13,43 nella 2023. Questi sono due avvisi bonari dello stesso contribuente, un aumento di circa il 10% della cosiddetta tazza dei fossi, un rialzo che ovviamente non è passato inosservato. Ad influire l'aumento dei costi delle materie prime, poi il numero di interventi svolti circa il 27% in più sulla base delle esigenze del territorio. Che vengono fuori in un momento di programmazione che è quello che facciamo ogni anno con gli antilocali. Quella fase, tante sono state le richieste anche dei comuni per intensificare l'attività del consorzio, per mettere maggiormente in sicurezza il territorio e quantomeno ridurre il rischio idraulico principalmente nei pressi dei centri urbani. 11 milioni di euro a tanto ammonta all'investimento per gli interventi di manutenzione ordinaria nel comprensorio del Consorzio 2 Alto Valdarno. Si parla di contenimento della vegetazione, poi si parla di rimozione dei sedimenti, sempre di manutenzione ordinaria, si parla della manutenzione delle opere. Dunque più interventi, ma c'è anche chi punta il dito sulla pulizia degli scarti vegetali, dal Consorzio di Bonifica l'appello alle segnalazioni. Quindi se in alcuni corsi d'acqua vedete che ancora è presente della vegetazione, fatecelo presente perché noi richiamiamo le nostre imprese. Sull'attività dei consorzi, soprattutto per la manutenzione dei corsi d'acqua, negli ultimi giorni si è acceso un faro alla luce del passaggio della violenta ondata di maltempo che ha colpito parte della Toscana. Ahimè, se fosse successo anche nel nostro comprensorio, avrebbe provocato forti criticità e forti disagi. La manutenzione ordinaria serve a mitigare il rischio idraulico, ma per risolvere criticità specifiche ci bisogna di nuove opere o di opere straordinarie. E quindi abbiamo chiesto anche attraverso l'Ambi Nazionale, che è l'associazione che raccoglie tutti i consorzi d'Italia, un piano nazionale.